Sì, ciao, ciao, sì, sì, dai, sì, dai, ti doi girare un video, dai, sì, dai l'ombricola, ciao, ciao Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti Oggi siamo qui a mettere un po' più di pepe, oggi facciamo un argomento un po' più toccante Perché oggi parliamo della... Di cos'è che parliamo? Ah, per cos'è? Ah, dalla copertina, vedi E no, perché io sto dicendo di cosa parliamo Però loro lo sanno già di cosa parliamo Perché loro vedono la copertina, vedono il titolo del video, lo sanno già di cosa parliamo Quindi che cazzo io dico a fare? Ma no, io dico coglioni, ma tu dopo la tagli Però se no non c'è il mood Parliamo di come non avere rotture di coglioni Troppo, 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 un po' meno Oggi parliamo di come la sana arroganza ci può essere utile nella vita Può essere una cosa che ci torna anche a volte in modo positivo Ovviamente tutto questo dopo la sigla Oggi siamo qui per capire come l'arroganza a volte può avere anche una connotazione positiva Quindi parliamo dal presupposto che la gente che è arrogante mi sta sulle palle anche a me Ovviamente la odio, non mi sta minimamente simpatica Però c'è un modo per essere arroganti Ma nel senso di essere fermi, essere decisi Essere persone che sanno quello che vogliono Vanno e se lo prendono E nel business, se sei anche tu un aspirante imprenditore Questa cosa è fondamentale Andremo a scoprire quindi oggi l'importanza di sbattercene un po' Di tutto quello che pensa la gente, delle conseguenze, delle cose Facendo cosa? Andando a scoprire due lati della psicologia umana Che hanno a che vedere con la sana arroganza E capiremo come questa può portare degli enormi benefici Quindi parliamo, partiamo Potrebbe essere che mi sono inceppato Potrebbe sembrare Partiamo quindi con la paura del giudizio Perché la paura del giudizio ragazzi è infame È veramente brutto Guarda che è proprio stronza Perché è quella cosa che quando tu sei lì Che vuoi fare una cosa Sei un po' indeciso Indeciso, non sai E inizia a farti venire le paranoie sul farla Quindi non ti fa agire Ma figlio mio Allora da dove arriva la paura del giudizio? Arriva, questo è proprio uno studio che ho fatto io Ma proprio antropologico Da l'uomo delle caverne, no? Giustamente, cosa succedeva? Pensa a quanto anni c'ha l'uomo? 10.000, 20.000, un sacco di anni Quando stava nella preistoria Che cacchio era? Insomma, era lì E non poteva essere escluso dal gruppo Perché essere escluso significava morire Cioè, se tu eri un uomo strano Negli anni dell'uomo primitivo E ti cagavi sotto se eri diverso E quindi non volevi farlo notare Avevi paura che gli altri ti escludessero E quindi avevi paura del giudizio altrui Perché da soli non si viveva Ma mo, che stiamo nel 2021 Ma che cacchio te ne frega Ma fai quello che ti va Cioè, puoi fare quello che vuoi da solo Non devi avere paura del giudizio di nessuno La sapevi questa cosa? Non la sapevi Ti ho sbloccato una cosa interessante Quindi, prendiamo la paura del giudizio Allora, la mettiamo lì Da parte, uno sgabuzzino al chiuso Anzi, gli diamo un bel calcio in gula E la mandiamo via Quindi, la paura del giudizio non ci serve Dall'altra parte, quindi, della psicologia Cos'è che ci aiuta in questa sana arroganza? Nell'autostima Autostima? Autostima, cosa vuol dire? Ve lo dice Marco Costanza Vuol dire non sentirsi inferiori a nessuno Non sentirsi superiori a tutti Non sentirsi inferiori a nessuno Perché se ti senti superiore a tutti Se ne ammerda Quindi, non si fa Devi essere umile Però non ti devi nemmeno far mettere i piedi in testa Devi essere una persona Capito? Come dicevo prima Ferma, decisa Con Eh Con Faccio il gesto Non faccio la parola Perché Tu non devi Non devi sentirti inferiori a nessuno Punto Non è che c'è altre cose da dire Punto Sei tu Ognuno è diverso in questo mondo Tu c'è le abilità che altri non hanno Viceversa Quindi Sei te Tutto questo ci porta quindi Al fatto Che non hai bisogno di alcuna approvazione Te capi? Non è che devi Sapere se Gabriele è d'accordo Che io registri il video in questo modo Mi va di registrarlo in questo modo Il video fa cacare Ma almeno fa cacare per i motivi miei Tutto questo cosa ci porta? Tutto questo cosa ci porta? Perché c'è anche un finale in questo video Come io non posso dire in modo arrogante di lasciare un like Lascia un like Vaffanculo No Senza per favore glielo chiediamo Quindi Lascia un like Per favorino Ecco Ti prego Dai Grazie Per favore Non ti costa niente È gratis Grazie Stavamo dicendo Quindi in conclusione Questa roba di essere un po' san arrogante Di sentirti responsabile Dei tuoi Cosi Quindi dei tuoi Dei tuoi traguardi Vuol dire che te non hai bisogno Di chiedere il permesso a nessuno E questa cosa la notiamo Negli uomini di business Negli imprenditori Steve Jobs Elon Musk Bill Gates Non so Gabriele Franche No ma lo so per dire Mi hai tolto le parole di bocca Sono tutte persone Che sono arrivate Non perché hanno chiesto scusa Posso Permesso Hanno fatto Ci sono andate da fare Capito Via Buttati Poi se qualcuno non è d'accordo Fatti i suoi Tu intanto Fai la tua strada Senza ledere La libertà di altri Altrimenti ripeto Sei un bastardo Però se invece tu Fai le cose Dentro il tuo Senza troppe paranoie Facendole Poi se qualcuno Ci ha da ripensare Gabriele non ti piace questo video Io lo faccio così Questo deve essere Il modo In modo che poi Il risultato dipende Totalmente Exclusivamente Da me Se va bene Grazie Marco Sei un grande Se va male Marco porca buttana La prossima volta Fallo meglio Ma è una cosa Che riguarda me Va Si va Deve andare Ciao Buonasera a tutti Stavo finendo il video Che poi mi hanno rotto i coglioni Io mi faccio il culo 700.000 ore al giorno Fare video cose E Dove pure chiedervi Se mi lasciano i like Ma lo devo lasciare Punto Grazie a tutti i coglioni Ciao a tutti i coglioni Ciao a tutti i coglioni